Rifugio Montegennaro, guardate chi c'è, proprio dentro al rifugio stiamo, a vorpitta, guardami, sta a mangiare, è affamata poverina, tieni mangia, non si dovrebbe dare da mangiare agli animali selvatici, però questa qua purtroppo c'ha bisogno di mangiare, c'ha i cuccioli quindi per una volta sola, non ci vieni più, non te lo do più. Vedete siamo al rifugio di Montegennaro, guardate, dentro qua il rifugio, guardate quanto è bella, si non so fatta la mia, ma la porta a guinzaio, c'è pierbizio, basta così, battano a casa, mangia dell'ultimo pezzo.